Voi signorine finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere, capito bene luridissimi vermi? Signor, sì, signore! Ma che cazzo non vi ho sentito? Signor, sì, signore! Signor, sì, signore! Signor, sì, signore! Signore, signore! Signore, signore! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti